Buonasera. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare il dottor Daniele Novara, pedagogista di fama nazionale, ideatore del metodo maieutico nell'apprendimento e nelle relazioni di aiuto e del metodo Litigare fa bene. Fondatore e direttore del CPP, Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti, con sede principale a Piacenza. Autore di numerosi libri di largo successo tra cui Litigare fa bene, nel 2013, Punire non serve a nulla, nel 2016, I bulli non sanno litigare, nel 2018, Cambiare la scuola si può, nel 2018, Organizzati e felici, 2019, e l'ultimo uscito da pochi mesi, i bambini sono sempre gli ultimi, come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro. È docente del Master in Formazione Interculturale presso l'Università Cattolica di Milano, direttore della rivista Conflitti, rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica. Buonasera e benvenuto nella nostra casa. Bene, buonasera a tutti, grazie dell'invito. La lascio in buona e male nel Sessore Inzani che condurrà con lei questa intervista. Bene, grazie Sindaco. Grazie. Buonasera professore, buonasera. Benvenuto, anch'io la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Le confesso di essere emozionata e contenta di fare questa intervista con lei. Allora, farò un breve introduzione alle domande. Ovviamente l'anno che abbiamo appena trascorso è un anno difficile per tutti, un anno che ci segnerà. Un anno che ci ha costretto a mantenere le distanze, a non toccarci, ci ha obbligato a una sorta di isolamento collettivo. E abbiamo sperimentato una modalità comunicativa che mai ci saremmo aspettati. Certo. Oggi ci piacerebbe, insieme, diciamo attraverso la sua esperienza personale, vorremmo mettere a fuoco proprio gli effetti che questo distanziamento ha avuto e avrà sui nostri bambini e ragazzi. Partiremo dall'infanzia per arrivare all'adolescenza. Così questo è un pochino il tema del nostro incontro. Per la prima domanda io mi riferirei alla fascia 3-6 anni. Professore, secondo lei la mancanza prolungata della scuola materna e del gioco all'aria aperta hanno influito sulle motività e sulla crescita di questi bambini e se in che modo? Diciamo che in generale il ritiro in casa, il cosiddetto lockdown, ha influito già a giugno. L'ospedale pediatrico Gaslini, che è un po' quello storico in Italia, aveva fatto un'inchiesta abbastanza approfondita con un questionario ai genitori, da cui si ricavava che proprio in quella fascia c'erano delle contrazioni emotive, delle regressioni e quindi delle situazioni di difficoltà che erano emerse e che appunto nel complesso poi durante l'estate più o meno sono state un po' riportate. La questione di fondo però qual è? E' che questa situazione sta creando sui bambini piccoli una grande paura, un grande panico direi, una grande ansia da parte dei genitori. Io che ricevo ogni settimana dalle 10 alle 15 coppie di genitori nei miei studi, devo dire che la fragilità è la norma in questo momento. I genitori sono molto spaventati, impauriti, non riescono a fare le mosse giuste, perché ogni mossa, come dire, sembra sbagliata. Per cui sostanzialmente i bambini stanno anche di quell'età, non solo di quell'età, stanno soffrendo dell'isolamento, della mancanza di movimento e di un eccesso ovviamente di videoschermi molto dannoso dai 3 ai 6 anni, che è lasciato il problema completamente ai genitori. E quindi questo l'ho denunciato anche nei miei libri. Peraltro, per fortuna, i bambini alla scuola dell'infanzia non hanno la mascherina come il nido, però purtroppo la mascherina è portata dalle insegnanti. E quindi la scomparsa del volto nelle maestre è un grave vulnus dal punto di vista relazionale. Allora, dal punto di vista tecnico, però, va detto, io lo dico da un anno ormai, che tutto questo è inutile, è assolutamente inutile, trasformare le scuole in ospedali e quindi la completa ospedalizzazione delle scuole, per cui i bambini all'elementare portano le mascherine, e questo non avviene neanche nei reparti di pediatria, è, come dire, inutile e dannoso, nel senso che a distanza di un anno, l'ha rivadito anche il professor Biasucci, il nostro primario all'ospedale, i bambini non sono coinvolti in questa pandemia, nel modo più assoluto. Certo, possono avere contagio, ma non hanno la morbilità. E come diceva lui, non ha avuto nessun bambino ricoverato in ospedale per questa malattia, questo virus. Per cui, tutto sto allarme sui bambini, e specialmente l'idea che siano contagiosi nei confronti dei loro compagni, specialmente dei nonni, non ha basi scientifiche. Non esiste una ricerca sulla contagiosità dei bambini. Proprio non esiste. Se qualcuno me la porta, io sono ben contento. Ecco, addirittura nella prima fase si diceva che fossero i bambini gli untori, lei ricorderà, quando si è preferito lasciare fare la passeggiata col cane, piuttosto che con i bambini. E quindi si sta creando un grave vulnus, anzitutto i genitori hanno avuto un'ulteriore contrazione della natalità, un'ulteriore contrazione demografica, ma più che altro sono lasciati da soli, completamente da soli. E questo è, come dire, molto molto inquietante. Il genitore da solo era già molto molto fragile, adesso in questa situazione come fa a fare le mosse giuste. Certo, io ribadisco ai genitori, non isolate i vostri figli, non isolateli. E la cosa peggiore, non succede nulla, non succede nulla se vanno a giocare in un parco giochi. Come ho visto qua a Gossolengo, che il Fortuna è aperto, c'erano nonni con i bambini. Non succede nulla, non esistono ricerche che dichiarino i bambini contagiosi. Certo, chiarissimo concetto, assolutamente. Come seconda domanda, mi riallaccio a una frase che lei ha appena detto, citando i nonni. Sì. Allora, i nonni da sempre sono una risorsa importante per i genitori e i lavoratori. I nonni, io sono un'insegnante, spesso quando all'uscita da scuola ci sono i nonni che accolgono i bambini, li tengono e poi danno di consiglio ai genitori verso sera. Per il motivo che lei ha appena menzionato, i nonni sono stati divisi, separati dai bambini, per proteggerli, appunto c'era questa attenzione perché considerate categorie fragili. Dall'altro lato, i genitori e i lavoratori si sono trovati a passare molto più tempo in casa perché tanti lavori sono stati fatti da casa, da remoto, quindi molti si sono organizzati stando a casa e lavorando da casa. La domanda è questa, secondo lei il condividere più tempo con i bambini che erano a casa da scuola e quindi erano già di per sé nella loro casa, uniti ai genitori che anche loro lavoravano da casa, può aver avuto effetti positivi sui bambini o no? No, nel modo più assoluto no. I bambini dal terzo anno di vita hanno bisogno solo dei compagni, quindi di uscire dalla copertura materna, dal nido materno. Cioè il processo di crescita è un processo di allontanamento, non è un processo di avvicinamento. Cioè l'autonomia ha un'implicazione di uscire, di affrontare le sfide della vita, di fare nuove avventure. Quindi progressivamente questo legame si scioglie. Viceversa è vero, con il lockdown e tutta la compagnia briscola, i bambini si sono ritrovati in una situazione quasi di morbosità relazionale, con gravi danni per la loro autostima, per la loro autonomia. Cioè il ritorno nel nido materno, quasi a livello neonatale, ha delle gravi ripercussioni sulla loro crescita. Il bambino cresce se può con gli altri bambini sperimentare il limite, sperimentare il litigio, per esempio. Cioè il fatto che l'altro bambino vuole il tuo stesso giocattolo e ti devi confrontare. La necessità di decidere insieme agli altri bambini è quello che crea la società. altrimenti, cos'è? Una sorta di maternage continuo, dove invece che fare esperienze, i bambini hanno continui assilli, incombenze, incalzamenti e assistenza. Io sono indubbiamente preoccupato. Per fortuna il cervello infantile è anche molto plastico e senz'altro ci sono buone possibilità di recupero. Ma quest'anno è stato un anno difficile. Non si può chiedere ai bambini di stare in stand by. Lo puoi chiedere a un trentenne, un quarantenne, un cinquantenne, ma non puoi chiederlo a un bambino. Perché il bambino in un anno di vita fa quello che noi facciamo in vent'anni. Assolutamente. o addirittura pensare, come qualcuno incautamente fatto, che la didattica a distanza corrispondesse alla scuola. Quello è un pagliativo, un succedano. Cioè, i bambini sono esseri sensoriali. Senza la sensorialità si spengono, si ammalano. Vanno incontro a delle gravi disfunzioni, dei gravi disturbi. Quindi lo notiamo, no? C'è un po' un ritorno anche, non so, di inuresi, di ancopresi, cioè di disturbi legati proprio alla neonatalità. E vabbè, detto così, non vorrei apparire troppo, come dire, pessimista. Però soltanto nella consapevolezza che stiamo danneggiando i bambini possiamo cercare di fare le mosse giuste. Certo, sono d'accordo. Mi trovo completamente d'accordo sia come insegnante, quando lei si rivolge alla scuola, sia come genitore di tre. Ormai ragazzi, ma che comunque hanno avuto anche loro il loro percorso di crescita. Quindi sono completamente d'accordo sul discorso di allontanamento da lì. Ah, certo, ma quella è la base di ogni crescita. Assolutamente. Anzi. Cioè, quando io alla radio ho sentito un famoso primario di pediatria gongolare perché gli adolescenti tornavano in casa, così recuperavano il rapporto con i genitori, ho detto che questo deve aver sbagliato il lavoro. Peccato che sia anche un famoso pediatra in un famoso istituto ospedaliero italiano. Ecco, però è un po' quella. La situazione di emergenza ha sdoganato delle uscite di cui facevamo volentieri a meno, senza alcuna base scientifica. Cioè, in altre parole, noi siamo tecnici dell'infanzia, dell'adolescenza, qualcosa abbiamo imparato studiando tutta la vita e continuando a frequentare bambini, ragazzi, famiglie. Proseguiamo la nostra intervista, proprio adesso passando alla scuola primaria. che, come la scuola dell'infanzia, rappresenta un'importante occasione di maturazione e crescita per i bambini a livello di socializzazione e di crescita personale. Tutto questo si è interrotto bruscamente. Io ricordo quel 21 febbraio venerdì che abbiamo appreso noi docenti, genitori, bambini, che lunedì la scuola era chiusa, era chiusa e in un primo, in una prima fase, non so se si ricorda il professore, si parlava di una riapertura imminente che non c'è mai stata. Non c'è mai stata, è vero. Quindi io, io l'ho vissuta da dad, l'ho sperimentata a livello lavorativo, perché ho dovuto, come tutti i miei colleghi, cimentarmi in questo modo di lavorare completamente nuovo e quegli insegnanti non erano assolutamente preparati. Io le chiedo, secondo lei quali effetti ha provocato questa situazione di brusca interruzione della frequenza scolastica, di tutto quello che siamo detti prima e quindi quale conseguenza ha avuto la DAD sul loro percorso psicologico, scolastico, a suo parere questo modo di fare scuola, tra virgolette, che cosa ha significato secondo lei per i bambini? Beh, anzitutto bambini e ragazzi sono in casa molto molto arrabbiati, arrabbiatissimi. Anche oggi in studio con i genitori mi raccontavano di una bambina di sei anni che si è abilitata nel tirare gli oggetti ai genitori. È anche una buona mira, devo dire, da quello che mi raccontavano. Ma io ho degli episodi più simpatici, tra virgolette. Un bambino di otto anni ha preso il telecomando, l'ha tirato la mamma, le ha centrato l'occhio e l'ha mandata al pronto soccorso. Un altro bambino di dieci ha sfasciato tutta la sua camera, tutta. La madre non sapeva che santo votarsi, ha chiamato il servizio sanitario per un trattamento sanitario obbligatorio che a dieci anni ovviamente non si può fare. Ecco, questi sono gli episodi che purtroppo i giornali non raccontano, le televisioni non raccontano, perché c'è solo il Covid. Solo questa malattia, il resto non esiste. Però il resto, specie per i bambini, i ragazzi, è altrettanto importante, perché sono danni che poi durano. Il Covid passa. Ma quello, purtroppo, quando un bambino ha acquisito tanta rabbia ad aggredire i suoi genitori e questa situazione per lui resta un buldust terribile, un senso di colpa, un senso di colpa terribile, non possiamo pretendere dei bambini che facciano una vita innaturale. Qual è la vita dei bambini? Tre elementi, l'ho detto anche prima, elemento motorio, cioè devono muoversi. Un bambino di sei anni deve fare movimento attivo dalle due al tre ore al giorno. Se questo non avviene ci sono delle compromissioni. Due, la socialità. Un bambino, sempre mettiamolo sui sei, sette anni, otto, deve stare tanto tempo con i suoi coetanei, che non sono i fratelli, perché con i fratelli c'è una competizione affettiva nei confronti dei genitori, che non è la stessa cosa che avere i compagni oggettivamente intesi, ossia gli amici, che ne so, di cortile, o gli amici di scuola. E da ultimo la natura. Se uno non può vivere la natura, perché deve stare soltanto in casa, è ovvio che questo è un grave deterioramento sul piano psicoevolutivo. E questo è quello che hanno subito i bambini da marzo fino a tutta l'estate, poi fortunatamente sono tornati a scuola. Da prima alla primaria senza le mascherine, poi con il lockdown di novembre hanno costretto i bambini a metterle in mascherine. Questo la ritengo una decisione improvvida, sbagliata, perché lei deve capire questo, che tutte le decisioni che sono state prese sulla scuola sono state prese senza alcun consulto degli specialisti della scuola, dei bambini, dei ragazzi. Solo è stato dentro, solo, come dire, la consultazione medica. Solo quello. Anche nella CTS non c'era nessuno. E questo è un grave pregiudizio rispetto, perché il resto d'Europa è andato assolutamente in maniera diversa, e quindi il resto d'Europa avrà un'uscita anche da questa faccenda diversa, perché una volta che c'è la vaccinazione, noi dobbiamo capire a che punto saremo e con quali risorse umane dovremo fare i conti, tenendo conto appunto che il futuro è dei bambini, dei ragazzi, sono loro che dovranno guidare la nostra società. Se avremo fatto le mosse giuste potranno farlo adeguatamente, altrimenti gli resta una situazione quasi traumatica, per alcuni casi traumatica, perché quando si crea troppa ansia, come in alcune famiglie, in cui si ascoltano le notizie sul Covid, come se fosse il discorso del Papa, e poi si dice questo non lo puoi fare, questo non lo puoi fare, è chiaro che è una situazione di tipo traumatica per un bambino, e di questo trauma cosa ce ne faremo? Chi se ne occuperà? Chi se ne occuperà? Bisogna assolutamente considerare che ci vuole un'attenzione che in questo momento non sia, secondo me l'elemento proprio più sbagliato in assoluto, aveva preso tutte queste decisioni senza ascoltare gli esperti del settore. Al punto che, sulla DAD, dopo che noi tecnici abbiamo continuato, arriva a dire che la DAD è un succedaneo, cioè come dire una soluzione di emergenza, non può essere la scuola. Bene, allora proprio il primo ministro Mario Draghi, l'ha detto lui, l'ha detto lui, adesso ormai non possiamo dire che c'è qualche Cassandra che dice che la DAD non va bene. Guardi, nel suo discorso al Senato, dice Draghi, le ragazze e i ragazzi hanno avuto, soprattutto quelli nelle scuole secondarie di secondo grado, il servizio scolastico attraverso la didattica a distanza, che pur garantendo la continuità del servizio, non può non creare disagi e evidenziare disuguaglianza. Un dato chiarisce meglio la dinamica attuale. a fronte di 1.696.300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nella prima settimana di febbraio, solo 1.039.372 studenti, 61,2% del totale, ha avuto assicurato il servizio attraverso la didattica a distanza. Lo dice, ci voleva Draghi? Non facevamo prima ad ascoltare i tecnici del settore, come me, che abbiamo continuato a ribedire questo? Bisognava aspettare il Messia per avere un attimo di indicazione su quello che era sotto gli occhi di tutti, continuando a farci del male? E adesso qualcuno continua a insistere su sta storia di chiudere le scuole? Dico, ma questi sono degli irresponsabili, cioè, sono dei fenomeni che non hanno a cuore veramente i nostri bambini, i nostri ragazzi. Cos'hanno a cuore questi? Cioè, uno se lo chiede. Ma di cosa state parlando? Ve l'ha detto Draghi. State tranquilli un attimo. No, sono ancora lì che si agitano le scuole. I focolai, è ovvio, non sono nelle scuole. Ormai è acquisito. I focolai vanno cercati negli ambienti promiscui. No, alla scuola... Promiscui. Non nelle scuole. E fra gli ambienti promiscui, mi permetto di dire, ci sono anche tante famiglie che non rispettano le regole. Quindi, io in varie occasioni ho detto mandati i ragazzi il più a scuola possibile perché almeno lì sono al sicuro. Lì sono al sicuro. In casa non siamo del tutto al sicuro. Tanto a fatti i contagi nelle case si... Cioè, se il marito si ammalava sul lavoro, immediatamente la moglie poi si ammalava in casa. Cosa doveva fare? Non è che puoi creare la barriera. No, no, in casa no. Il plexiglass nel divano della cucina. Cioè, qualcuno lo proponeva, però sono idee balsane. No, no. Sicuramente la scuola sia a vari livelli impone la mascherina, impone il distanziamento, impone l'ingegnerazione delle mani. Quindi, concordo sul fatto che il contagio... Cioè, la scuola è molto controllata. Ma non solo. Anche tutta la retorica sui trasporti. Bisogna considerare che poi, quando siamo tornati a scuola a gennaio, la situazione dei trasporti era molto diversa. Quasi tutte le regioni italiane avevano messo a disposizione molti più trasporti. E quindi la situazione era decisamente migliore. Non era quella, che ne so, di settembre e ottobre. E che quindi, anche, cosa si vuole dalla scuola? Questa continua, alzare l'asticella. Non so se mi spiego. No, se spiego. Per arrivare dove? E poi... Ecco, quindi, come dire, dobbiamo avere rispetto dei bambini, dei ragazzi, del loro futuro. Ecco. Certo. Proseguiamo, adesso ci spostiamo sulla fase degli adolescenti di cui stiamo già parlando con le scuole. Allora, sicuramente gli adolescenti, anche per loro, il prezzo da pagare è stato alto. Isolamento dal gruppo, mancante contatto fisico, impossibilità di praticare sport di squadra. Questo poi anche per i bambini più piccoli. comunque lo sport è stato per tanti mesi tolto. Adesso lo sport un po' è tornato, almeno gli allenamenti, sì. Nelle zone, mi sembra nelle zone gialle, non so, delle zone arancioni. Ci sono dei vincoli, noi abbiamo avuto comunque il periodo, quello proprio più restrittivo, in cui gli sport a contatto erano vietati, però ad esempio anche gli sport d'acqua, no? Le piscine. Ah, sì, sono chiusi. Ci sono molti sport che non hanno ancora potuto avere la via libera. Secondo lei, lei me l'ha già anticipato, comunque anche su questa fascia, sui adolescenti, che impatto ha avuto questa mancanza di socialità? Perché comunque l'adolescente vive molto il gruppo, vive molto il contatto, gli adolescenti hanno l'autonomia di spostarsi, comunque non sono più accompagnati dai genitori, prendono i mezzi, si muovono, vanno a scuola, quindi vivono tanto questa dimensione. Allora, vorrei specificare questo dal punto di vista psicoevolutivo, che è molto importante, che forse sfugge. Il bambino è abitudinario, le abitudini le decidono gli adulti, specialmente i genitori, eventualmente gli insegnanti. lei da maestra avrà notato che i bambini si abitano, anche le cose più difficili, tipo tenere la mascherina più o meno 8 ore, vedo mio nipotino e quando esce da scuola non riesce neanche più a toglierla, perché ormai... Sono molto bravi. È molto abitudinario. Il bambino è abitudinario e questo è un elemento che da un lato è positivo, perché chiaramente in questo modo il bambino lo gestisce, dall'altro però la si ha molte incertezze, perché se le abitudini sono sbagliate il bambino si abitua a tutto. Però facciamo attenzione, sempre dal punto di vista psicoevolutivo, questa regola non vale per l'adolescente e neanche per il preadolescente. Ribadiamo per chi ci sta seguendo, la preadolescenza è quando finisce l'infanzia, cioè dagli 11 anni fin verso i 14, poi inizia l'adolescenza conclamata che le neuroscienze ci dicono arriva fino a tono al ventiquattresimo, venticinquesimo anno di età, cioè va avanti più di quello che sapevamo fino a 30 anni fa. Allora, l'adolescente è il contrario, l'adolescente è imprevedibile per composizione neurocerebrale, il suo cervello è sottoposto a degli scrolloni molto sistematici fra l'area limbica e la corteccia prefrontale. La corteccia prefrontale sta cercando di prendere la regia di tutte le aree cerebrali, però ci metterà 10 anni, se non 12 per farlo, come noi adulti, che poi magari lo usiamo male questa regia, però comunque il nostro cervello è in grado di farlo, ok? Quindi è una situazione estremamente complessa e imprevedibile per un ragazzo, non è abitudinario, solo il bambino è abitudinario, quindi pretendere che un ragazzo dagli 11 anni in poi si sottoponga a qualcosa di totalmente innaturale, innaturale, com'è? Stare nel nido materno con la mamma, questo tipo di costrizione a tornare nel grembo materno letteralmente è qualcosa di totalmente innaturale e lesivo della sua crescita, lesivo, come chiedere a un pesce di camminare sulla terraferma, lo stesso, questa lesività si sta ampiamente dimostrando, i dati clinici sono ovviamente ormai incontrovertibili, addirittura anche diversi primari continuano a segnalare, specialmente in che area? Nell'area dei ragazzi che già era fragile, quest'area è finita fuori controllo dal punto di vista psicologico, fuori controllo, non solo, con un altro problema che non vanno neanche in psicoterapia perché non vogliono fare la psicoterapia a distanza, perché non tutti gli psicoterapeuti accolgono i ragazzi in studio e se li accolgono c'è una caterva di plexiglass, mascherine e strumentari vari, quindi il ragazzo si disaffeziona a questa modalità per cui non dico il disagio molto di più, sono aumentati i suicidi ma specialmente sono aumentate le forme di autolesionismo in ordine all'anoressia, alla lesività corporea e specialmente a questa forma di autolesività totale che è rifugiarsi otto ore al giorno, dieci ore al giorno davanti ai videogiochi ecco, senza alcuna regola, alcun controllo, no? Come mi diceva oggi una coppia di genitore, eh vabbè, per farlo socializzare abbiamo comprato la Playstation, ma che socialità è questa della Playstation? Cioè, è una pseudo, una pseudo socialità e poi il cervello non riesce più a controllare lo strumento, è lo strumento che controlla il cervello. Quando un ragazzino si fa tante tante ore davanti alla realtà virtuale e recuperarlo poi è un problema, vuol dire che sta perdendo ore e ore di esperienze di apprendimento, ore e ore, peraltro con ampie compromissioni del sonno perché molti scambiano il giorno per la notte, sono tantissimi quelli che non riescono più a andare a scuola, che fanno fatica, che non si alzano dal letto, che fanno finta di fare la dad, ma tantissimi, l'ha detto addirittura anche il Premier come ho specificato precedentemente, quindi il fatto che siano stati proprio gli adolescenti quelli più colpiti dalla chiusura delle scuole è una nefandezza particolare da parte di chi ha preso queste decisioni senza consultare gli esperti del settore. Ecco, perché se si pensava di aver fatto qualcosa sul piano del Covid ma qua ci ritroviamo con una serie di disturbi dello sviluppo che recuperarli non sarà semplicissimo, non sarà semplicissimo. Sì, infatti lei con questo intervento ha proprio anticipato il discorso del mondo virtuale che è diventato per un lungo periodo lo strumento di vita sociale degli adolescenti perché con lo strumento virtuale loro si interfacciavano con altri quindi chiamate Whatsapp video Instagram TikTok e secondo lei lei mi ha già risposto però effettivamente come può un genitore come può una famiglia che si accorge che questo utilizzo di queste tecnologie prende il sopravvento nel ragazzo il ragazzo diventa dipendente da questo come una famiglia può intervenire e chi aiuto può chiedere e a chi può chiedere aiuto allora anzitutto anche qua aver colpevolizzato i ragazzi perché al pomeriggio uscivano anche questa è una nefandezza particolare e chi l'ha fatto deve rispondere di questa di questa di questo tentativo di chiudere i ragazzi con il doppio mandato in casa con la mamma perché questo è dannosissimo perché la possibilità di uscire e stare con i compagni al pomeriggio era una via una via di uscita certo la cosa migliore è che fossero andati a scuola ma nel momento in cui questo era proibito secondo me ribadisco sbagliando bisognava almeno sostenere i ragazzi che il pomeriggio uscivano perché in questo modo cercavano di fare una vita sociale più o meno normale certo con la mascherina distanziamento eccetera eccetera e quindi sostenendo le regole certo ma però consentendo che potessero 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 fare qualcosa ok per cui i genitori cosa possono fare questo evitare di finire nel tunnel cieco della paura della paura perché comunque questa paura si riflette sui ragazzi sui bambini anche sui ragazzi impedire ai ragazzi di vivere perché fuori c'è uno spettro che dal punto di vista tecnico come ho detto prima più che tecnico medico li riguarda molto molto in maniera in maniera blanda se non blandissima è come dire un elemento di forte minaccia nei loro confronti ecco quindi i genitori come avevo tante volte sostenuto anche durante lo scorso lockdown far fare attività ai bambini parliamo dei bambini attività mantenere socialità andare a muoversi stare nella natura il più possibile tutto questo è permesso e ancora adesso permesso non è proibito e quindi bisogna farlo per quanto riguarda gli adolescenti al pomeriggio possono uscire che lo facciano non che la loro vita è un pezzo di videogiochi e un pezzo di compiti perché poi anche i compiti diventano insostenibili anche perché abbiamo dei dati molto stringenti sul successo scolastico il successo scolastico è direttamente proporzionale alla scarsità di frequentazione virtuale più la frequentazione virtuale aumenta e più il successo scolastico diminuisce e quindi è meglio che il ragazzo se ne vada che ne so a stare con gli amici a stare in città a fare delle cose che non a passare il tempo sui social su youtube sui videogiochi ecco questo cui la responsabilità dei genitori c'è però i genitori sono totalmente disinformati disinformati quello che io sto raccontando a lei ma qual è il genitore che lo sa no il genitore è dentro un cono d'ombra di paura 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 e se prova accendere la televisione ne viene fuori che deve prendere un ansiolitico se va bene sono arrivate delle domande? si ah bene si 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 allora io la prima posso leggere questa si grazie cosa ne pensa della recentissima proposta di porlungare le lezioni scolastiche per tutto il mese di giuno? benissimo io a questa domanda ho già risposto come lei può capire a diversi giornalisti la mia risposta è che la scuola non è un problema di quantità ma è un problema di qualità cioè bisogna migliorare la qualità scolastica specialmente abbandonare una didattica frontale trasmissiva no nozionistica basata sulla ripetizione questo non serve a niente perché sappiamo che l'apprendimento è un fatto applicativo esperienziale non di ripetizioni di contenuti nozioni dove quali sono le due isole dove passò l'esilio Napoleone ma chi se ne frega non è non è un apprendimento quello l'apprendimento ha sempre una natura applicativa e anche qua ricorderei Mario Draghi quando rilancia gli istituti tecnici certo perché rilancia gli istituti tecnici perché all'istituto tecnico impari impari veramente impari quello anche che serve una società per andare avanti altrimenti se ti cade un ponte chi lo fa certo tanto per ecco quindi lavorare sulla qualità io spero che questo ministro che ha preso in mano la situazione sia attento alla qualità pedagogica della scuola perché io poi ho intenzione nei prossimi giorni di parlarne abbondantemente la scuola italiana ha un problema molto serio la formazione pedagogica degli insegnanti e se lei è insegnante sa di cosa sto parlando ecco specialmente negli ultimi anni c'è stato un tana libera a tutti che ha lasciato senza fiato pensiamo al discorso insegnanti di sostegno le messe a disposizione così bisogna dire con molta chiarezza e lo dirò anche al ministro che insegnare non vuol dire conoscere la materia vuol dire essere specialisti e professionisti nella costruzione dei e nell'organizzazione dei progetti di apprendimento per i tuoi alunni cioè devi organizzare l'apprendimento dei tuoi alunni che anzitutto un apprendimento esperienziale non conoscere la tua materia la tua materia è così quel tanto quel tanto che basta ma nessuno imparerebbe la fisica da Einstein che Einstein è troppo avanti non so come dire è stato chiarissimo ma è qualcuno che sappia aiutarti a fare le esperienze giuste per imparare la fisica che sappia appassionare certo la passione è la base se un insegnante non ha esatto la motivazione la 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 sostenibilità neurocerebrale per cui oggi anche alla primaria si propongono a bambini di terza elementare no dei programmi che sono preuniversitari oggi in studio avevo una famiglia che mi ha raccontato prima media che nel weekend il figlio deve studiare 80 pagine di scienze io ho detto ma non lo facevo neanche all'università cos'è sta roba io dico stiamo impazzendo se questa è la scuola per carità finiamo a maggio non a giugno non so se mi spiega va bene maggio chiudiamo il più presto possibile se questa è la scuola o cambiamo oppure questi alunni già stressatissimi che hanno subito un'aggressione incredibile hanno hanno dovuto sottostare un sacrificio che non si è chiesto a nessuno non possono reggere una scuola di questo tipo quindi per carità lasciamo stare di prolungare fino a giugno teniamo giugno come sempre per la scuola dell'infanzia quello sì un'altra domanda una persona da casa ci chiede cosa può aver insegnato il covid ai nostri bambini e ragazzi se hai insegnato qualcosa dunque questa è una domanda che avrebbero potuto farmi in tanti non me l'ha mai fatta nessuno e qua finalmente rispondo per la prima volta allora le esperienze che servono sulla base dell'apprendimento sono le esperienze positive non quelle negative questo deve essere chiaro certo dopo la prima guerra mondiale c'è stata la seconda guerra mondiale oggi le guerre non sono più legittime perché ci sono già state tre generazioni che non hanno fatto la guerra e questa che crea l'antidoto la guerra che non ha noi io sono stato la prima generazione che non ha fatto la guerra poi c'è la generazione dei nostri figli quelli che adesso hanno sui 30 anni che non faranno la guerra i nipotini i miei nipotini anche loro sono proprio fuori da questa memoria noi in qualche modo abbiamo rischiato difatti durante gli anni 70 c'è stata una specie no quando io ero ragazzo di guerra civile come come qualcuno qualcuno qua che a una certa età potrebbe potrebbe ricordare quindi le esperienze negative ci devono aiutare a fare esperienze positive a non ripetere gli sbagli ma di per sé come dire aver aver sofferto essere stati così coinvolti non è che necessariamente crea una memoria positiva ecco certo io quando sono uscito da questa vicenda della malattia che me la son beccata subito all'inizio per fortuna non sempre è rimasta a casa me la son cavata poi ho avuto molta molta riconoscenza nei confronti delle tante persone che fortunatamente mi avevano mi avevano aiutato la riconoscenza potrebbe essere un apprendimento potrebbe e però capisce quando ci sono stati tanti morti non è semplice in assoluto avere riconoscenza quindi la cosa giusta è fare esperienze positive nella vita non gongolare e non come dire pensare che le esperienze negative possono come dire in maniera catartica trasformarsi ecco questo è rischioso come tipo di ragionamento molto rischioso molto un'altra domanda in questo periodo ha aumentato l'uso di internet che regole dare in mezzo ai bambini della scuola primaria lei l'aveva già accennato scuola primaria diciamo che io direi tutto il mondo virtuale un bambino della primaria da mezz'ora un'ora e basta con dentro tutto lasciamo adottare lo smartphone che abbiamo visto non va dato ai bambini della primaria nel modo più assoluto però insomma fra televisione un po' di tablet e altre diavolerie fra mezz'ora e un'ora mezz'ora è meglio un'ora ecco perché comunque la realtà virtuale sottrae l'apprendimento esperienziale qualsiasi cosa fa un bambino è sempre un'esperienza di apprendimento ma stare davanti a un videoschermo non gli porta nessun beneficio certo sono d'accordo assolutamente allora se non ci sono altre domande io direi che possiamo possiamo chiudere questa intervista io la ringrazio tantissimo grazie a voi è stato veramente un piacere ringrazio e faccio anche tanti complimenti al vostro al vostro comune perché è importante ecco questo tipo di come dire di servizio ecco molto molto importante specialmente anche avere voci che non siano sempre sempre le solite di questi talk televisivi che sono veramente spesso e volentieri anche molto molto angoscianti ecco le persone che vivono una situazione difficile hanno bisogno di informazioni attendibili attendibili ecco non di un come dire groviglio di notizie da cui venire fuori è veramente complicato e ribadirei no diamo ai bambini il loro spazio perché e anche i ragazzi il loro futuro insomma questo di questo ce ne saranno riconoscenti poi noi volevamo affrontare con lei perché la fascia dei bambini ed adolescenti è stata dimenticata è stata trascurata dimenticata e quindi ci piaceva questo approfondimento perché esatto ma di fatti anche il mio libro utile a chi ci sta ascoltando i bambini sono sempre gli ultimi anche un po' la denuncia di una situazione che era già presente ma che con con la pandemia si è aggravata come ho cercato di dire senza veri senza veri motivi ecco cercando dei capi espiratori tra i bambini e oggi tanto più tra i ragazzi ma ecco è un'operazione molto maldestra che insomma non possiamo non possiamo né legittimare né tollerare ulteriormente teniamo aperte le scuole e diamo ai nostri bambini e ai nostri ragazzi una vita il più normale possibile il più normale possibile con questa frase che noi condividiamo insieme grazie ringraziamo per averci ascoltato seguito buona serata a tutti grazie